Con un clic sul cellulare si potrà salire più facilmente a bordo degli autobus ATM utilizzando l'applicazione gratuita e pagando il biglietto in modo virtuale. Attraverso dei semplici gesti i fruitori dei vettori pubblici possono già acquistare i ticket seguendo la procedura apposita. La salvezza digitale sarà l'app gratuita MyCicero che consentirà anche all'amministrazione peloritana di snellire i tempi di pagamento e obliterazione dei titoli di viaggio. La città di Milano ha conquistato il primato per averlo ideato e messo in funzione ad inizio 2015 per affrontare la massiccia affluenza dell'evento mediatico Expo. L'app adibita all'acquisto del biglietto dei mezzi di trasporto pubblico attraverso lo strumento smartphone è già attiva ma è tuttora in via di sperimentazione, riferisce l'assessore comunale alla mobilità Gaetano Cacciola. Per la popolazione più computerizzata sarà indispensabile scaricare MyCicero per App Store, Google Play e Windows Phone e provvedere alla corresponsione del titolo di viaggio prima di salire a bordo dei mezzi attraverso la ricarica sul credito della stessa app con Visa o Mastercard, anche Postpay o direttamente con le carte Visa e Mastercard. Si potrà obliterare premendo il tasto attiva che compare nel titolo, si potrà dire basta agli specifici negozianti o ai gabbiotti del capolinea per reperire i biglietti ATM. La durata sarà in base alla scelta delle due tariffe disponibili 1,50 euro centesimi per 100 minuti e 2,60 euro per l'intera giornata. Il costo standard aumenta di 25 centesimi di euro ma si potrà viaggiare 10 minuti in più. Archiviati per il momento quelli da 1,25 euro, valido per 90 minuti e quello per due corse di 1,70 euro. Sicuramente questi prezzi saranno rielaborati nel programma con l'integrazione di altri operatori di telefonia mobile. Fra qualche giorno faremo la conferenza stampa e lo pubblicheremo ufficialmente. In questo periodo lo stiamo sperimentando. Questa è un'applicazione che sicuramente darà ancora maggiore impulso all'acquisto del biglietto che tante volte non si riesce a fare in tempo e quindi avendo a disposizione uno smartphone sarà possibile acquistare il biglietto e obliterarlo prima dell'ingresso sul bus. Grazie a tutti.